Signori ci siamo, lo avevamo promesso, puntata infrasettimanale è martedì 26, sono le 10 di sera circa la puntata è uscita per chi si sta ascoltando giovedì, che è il 28 e stretta attualità, perché mancano ormai 3 settimane, poco più poco meno, alla fine della regular season e l'ovest è sempre più movimentato perché i Rockets dal nulla stanno raggiungendo la zona bassa dei play-in e i Clippers dall'alto stanno scendendo proprio notevolmente nonostante il rientro di Russell Westbrook dopo 3 settimane da una frattura, è un androide, peccato che i Lakers fosse esattamente così Sì, è sempre il solito Ras, perché vedevo oggi la partita e nel terzo quarto ho fatto la gran schiacciata però poi ha pensato bene di gridare in faccia a Teresa Liberto e prendersi il tecnico cioè sono sempre le solite giocate senza troppa intelligenza, però va bene, insomma è Westbrook non è lui, secondo me, né la soluzione né la causa del problema Clippers attualmente in corso avremo modo di parlarne, il buon Tai Lu ha già detto un po' la sua, insomma in buona sostanza era in conferenza stampa incazzato come una Yen, un po' come l'amico Masulla ma anche Masulla, sì Masulla nella notte per noi appena conclusa era bello imbufalito perché pure i Celtics non sono passati benissimo Infatti era una notte sulla carta quella che abbiamo appena passato, cioè tra lunedì e martedì in cui c'erano tanti test a coda, tante squadre forti sulla carta che dovevano vincere, spazzare via le dirette avversarie e invece abbiamo avuto degli upset mica male perché insomma San Antonio che vince senza Wemby contro Phoenix e Atlanta che rimonta dal meno 30 contro Boston che sono andato a letto sul più 30 e ho detto vabbè dai, mi sveglio, Atlanta ha vinto Comunque ne parleremo in questa puntata, strettissima attualità, diversi temi e quindi niente, facciamo un anticipo, anticipiamo la Pasqua perché poi non sappiamo e non garantiamo la nostra presenza a Pasquetta e non si sa mai, poi potremmo anche arrivare a vostra insaputa un po' come la casa di, come cazzo si chiamava, dal Ministro al Colosseo mi ricordo mi viene Paiola Scaiola lo zio di Paiola e quindi niente, puntata che si pronuncia frizzante adesso ci arriva una querela da Paiola e da Scaiola però è giusto così comunque, bando alle ciance, signori, lanciamo la solita sigla Siamo tornati, dopo la solita sigla del gran maestro Riccardo Marchi che non finiremo mai di ringraziare e partiamo con un tema più che scottante prima di entrare in temi di campo perché è scandalo di oggi in realtà, in realtà già da ieri mi pare il fratellone di Michael Porter Jr., John Ty Porter che era sotto contratto con i Toronto Raptors se non vado errando insomma è caduto nel mirino e nel centro di una polemica legata alle scommesse alle scommesse e occhio perché nell'ultimo periodo si sono lamentati in tanti di questa roba qua si è lamentato Aliburton si è lamentato un allenatore non ricordo chi si sono lamentati in parecchi del fatto che le scommesse siano un po' troppo entrate nel giro NBA e che soprattutto a mezzo social ricevano una marea di insulti gente incazzata perché semplicemente loro magari hanno hanno perso la scommessa e sono incazzati insomma sta roba sta cosa delle scommesse sta un attimino andando un po' oltre tra l'altro non so se hai seguito ma dall'anno prossimo anche Lebron farà le sue prediction sull'NFL Reddick le fa già sull'NBA così come i principali giornalisti di ESPN quindi il mondo delle scommesse è veramente agganciato a doppio filo con l'NBA e il rischio che i giocatori che non hanno contratti garantiti che magari non guadagnano i soldi dei big come poteva essere il fratello di Michael Porter Jr che aveva un two-way mi pare o un contratto quindi un two-way tra G League e squadra NBA è che poi si è aperto sto server Discord diceva di giocare l'under sui suoi punti e poi fingeva incredibili infortuni per stare under c'è un grosso rischio secondo me c'è un grosso rischio e molto sottovalutato cosa che invece diciamo anche in Italia è presente in maniera minore però ste case di betting comunque scommesse girano intorno al mondo sportivo a tutte le latitudini e secondo me in America in questo periodo si sta un attimo passando il limite non so cosa ne pensi ma sì tra l'altro ho letto la notizia un po' un passano ma credo che pure il sito dell'NBA insomma leaguepassnba.com la app ecco la NBA app dovrebbe inserire la possibilità di scommettere dal vivo già adesso se non va derato c'è la possibilità di controllare le quote ma dovrebbe non ho capito se per i playoff o la prossima stagione comunque inserire la possibilità di di bettare direttamente dall'app o comunque di avere un accesso diretto laddove si può è molto rischioso ma direi che lo scandalino lo scandaletto del fratello di Michael Porter Jr che non so se mentre apriva la pagina di Discord comunque il profilo aveva pure la mano sulla Bibbia come il fratello ben più famoso è lui che gliel'ha rubata esatto probabilmente gliel'aveva rubata lui per impegnarla al banco dei quelli la Bibbia adorata voglio sapere però nel senso è il primo bischero che ci cade è un pesce no piccolo ma ancora di più inesistente però la prospettiva è che insomma lo scandalone alle porte cioè loro non so se si rendono conto cosa può significare lanciare ancora di più il tema scommesse sportive all'interno dell'app ufficiale eccetera cioè è chiaro che che succederà qualcosa di grosso nel prossimo anno nei prossimi anni noi probabilmente a questa latitudine su altre questioni a livello calcistico abbiamo un po' più il pelo sullo stomaco mi viene da dire insomma perché ne abbiamo viste di ogni e ancora prima che si scommettesse in maniera così facile sull'internet con le mille soluzioni quindi figurarsi adesso c'è da ridere io credo che la NBA porrà no il focus di più sull'attenzione rispetto a arbitri giocatori e potenziali illeciti legati a questo e quindi qualche dono beccheranno e ci sarà da ridere c'è solo da aspettare ecco però comunque è una direzione che oramai è intraprese evidentemente è iper redditizia per tutto il sistema quindi a prescindere da quelli che possono essere gli scandali difficilmente immagino che la NBA torni indietro su questa scelta per cui c'è solo da aspettare secondo me guarda non lo so nel senso che probabilmente da questa parte dell'oceano abbiamo un minimo più di cultura anche in quel senso forse perché ci siamo arrivati prima ad avere oltrepassato il limite mi vorrebbe da dire cioè se la serie B di calcio si chiama serie B win capisci che insomma noi ci siamo arrivati prima siamo sempre primi in questa in questa roba qua e poi ti rendi conto che forse non è stata una grandissima idea anche se poi quel che ti danno a livello di di denaro magari da altri sponsor non ti arriva però insomma c'è quella linea sottile tra l'etica la moralità e il vil denaro che mi pare che negli Stati Uniti siano molto più ben disposti a sorpassare oltrepassare rispetto a quanto non lo possiamo essere noi almeno in chiaro ecco dopo magari nelle retrovie succede sempre qualcosa però insomma boh questa roba qua anche secondo me è solo l'inizio di di qualcosa di più grosso perché insomma invece è già passata tra l'altro per scandali con gli arbitri principalmente ma in realtà credo non sia mai andata fino in fondo a quella vicenda che che ha molto dell'oscuro per come poi l'allora commissioner David Stern ha deciso di far uscire la notizia prima che l'FBI la rendesse pubblica di fatto quindi diciamo ha anticipato i tempi perché molto probabilmente aveva un minimo di timore di scoperchiare qualcosa di molto più grosso poi andiamo nel campo gli arbitri adesso danno i tecnici perché gli si dà del tiktoker e secondo me Chris Paul aveva pure ragione esatto non mi rimane particolarmente simpatico però no tra l'altro per chiudere la parentesi con la prospettiva di avere sicuramente un expansion a Las Vegas il tema scommesse gambling cioè sarebbe stato comunque al centro del dibattito quindi probabilmente si anticipano iniziando ad aprire alle scommesse direttamente dalla NBA app o qualsiasi altra questione sia prima ancora dei Las Vegas croupier ricordo una volta l'ottimo Federico Buffa ipotizzare che la franchigia di Las Vegas sarebbe potuta chiamare croupier bella di Las Vegas croupier bellissima una delle grandi genialate di Buffa immagina se Lebron James acquista una squadra e la chiama Las Vegas croupier poi guarda che secondo me per il gusto del kitsch di Lebron ci potrebbe anche stare mi viene in mente perché rivedevo l'altro giorno quella pubblicità dove lui ballava la salsa rispetto a quella tequila che promoziona roba imbarazzante veramente non credo che nessuno l'avrebbe mai fatta dei nostri sportivi nazionali ma lui la fa che gliene frega potrebbe chiamare Las Vegas croupier io penso che ci ricordiamo tutti la pubblicità di Giorgio è a nudo che dice ciuccio bene ciuccio bene cioè voglio dire ne abbiamo passati quando c'è il vil denaro davanti si fa qualsiasi cosa si fa qualsiasi cosa c'è di tutto quindi insomma chiudiamo il caso scommesse non noi non la NBA ma noi quantomeno e ti pongo lì altre due questioncine prima di parlare di stretta attualità allora che poi sono di stretta attualità anche queste in realtà allora Di Vincenzo viene dal massimo in carriera 40 punti 11 triple Little Basket è in una condizione alla Portland 84 scelgo quel che mi serve o scelgo il più forte dei due secondo me posso dire scelgo a caso no a caso è il primo che sono sicuro mi danno un passaporto chi è non lo so arcindiavano preso è lui a questo punto che siccome non siamo stati in grado mai di naturalizzare un cane fino ad oggi in buona sostanza che fosse utile o non utile neanche un porta borracce allora sentano un po' la pressione negli ultimi tempi dicevano ma noi non ci interessano i naturalizzati questa politica non la capiamo allora ora però hanno fatto retromaccia il primo di dei tre quattro che sono lì in attesa della cittadinanza lo prendono e lo portano dentro che ruolo è non ci ne frega un cazzo se abbiamo il culo che sia Dante De Vincenzo io continuo a chiamare Dante come dovrebbe essere il suo nome il sommo poeta e beh è meglio perché è vero che siamo abbiamo una sovrabbondanza in quel ruolo là perché io sento gli schicchinosi dire ma però De Vincenzo cioè comunque noi nel backcourt a livello nazionale siamo ben coperto buttiamolo via che tipo sta facendo la stagione della madonna ma che se ne frega ma teniamo i nostri no e prendiamoci Hugh Banks il talento Hugh Banks ho io il nome ho io il nome ho io il nome guarda Zach Eddie uh vedi vedi chi è Zach Eddie beh se non state guardando le torneo NCAA e la March Madness NCAA potrete farlo con NordVPN il nostro grandissimo sponsor il link lo trovate in descrizione al video lo trovate anche su Spotify sempre in descrizione della puntata perché perché non so se abbiate visto ma Zach Eddie di Purdue sta dominando statisticamente la March Madness fino adesso un due eventi abbondanti vecchissimo stampo qualcuno l'ha paragonato a Boba Marjanovic quindi a qualcuno che in NBA poi non avrà minimamente spazio ma in Europa io me lo prendo io me lo prendo se nessuno lo vuole fate un tentativo trovate una zia di Caltanissetta Zach Eddie e lo prendiamo cioè la fregatura per noi per Petrucci soprattutto è che Eddie è canadese quindi non è neanche statunitense il Canada se lo prende è sicuro è mai una gioia però nel senso si parla di di un giocatore che secondo me in NBA lo provano e lo proveranno anche perché dovrebbe vincere non so se è ufficiale o meno però lo si dà per scontato per il secondo anno consecutivo il Wooden Award che dovrebbe essere il premio per il migliore esatto il miglior giocatore della scena a livello nazionale e soprattutto rischia secondo me se va avanti con questi numeri e con questa decisività all'interno del torneo che se voi non state vedendo con i nostri consigli e quindi attraverso Nord WPN vuol dire che siete dei malfidati e quindi questa è un'occasione per redimervi prima che il torneo entri nelle fasi più calde perché siamo alle suite 16 però insomma se lui va avanti con questi numeri e Purdue va avanti così perché comunque lui è contornato da buoni tiratori da giocatori che la sanno mettere dall'arco quindi il sistema per adesso di Purdue da un punto di vista offensivo è indiscutibile e rischia comunque di vedere le sue quotazioni in rialzo perché comunque nei mock draft non è dato così tra i top o fine primo o secondo giro però qualcuno magari se lo rischia nel senso tutto sumato io leggevo un articolo molto interessante sulla tendenza di gran parte delle squadre che poi hanno partecipato al torneo NCAA di utilizzare il 5 a livello di playmaking un po' alla Jokic questo articolo si chiamava The Jokic Effect e rispetto a Eday chiaramente non è uno di quelli però qualche volta leggevo nell'arco della stagione a Purdue hanno provato a sfruttare anche un po' di suo playmaking soprattutto dal post perché comunque Eday è detto bene è un po' a struttura per quel po' e ho visto un vecchio stampo mettiamolo in questa maniera magari poi i NBA riescono anche ad affinare le sue skills anche se sembra un po' appunto vecchia scuola quindi ora Boba Magnanovic Georgi Miuresan non li scomodiamo speriamo sia meglio mettiamola così però comunque se volete vedervi le Pro Digest di Zach Edy giocherà contro Gonzaga nella notte tra venerdì e sabato e potrete farlo con NordVPN perché vi collegate dagli Stati Uniti fate un abbonamento trial di sette giorni mi pare se non erro di Paramount Plus e avete tutto 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 il torneo anche perché poi finirà i primi di aprile quindi in realtà con i sette giorni dovreste starci dentro alla grande ricordiamo che facendo l'abbonamento con un piano biennale tramite il nostro link avete diritto a quattro mesi quattro mesi in più e a uno strumento che vi protegge in tutto e per tutto perché insomma vi cripta o comunque non mostra verso l'esterno il vostro IP pubblico avete una protezione aggiuntiva contro i malfidenti come John Ty Porter Junior e contro insomma gli attacchi esterni signori che dire se non lo fate siete delle brutte persone no è il momento di farlo proprio per la faccenda per cui dicevi te nel senso sta finendo il torneo siamo nelle fasi super calde quelle che tutti vogliono vedere in Italia non c'è modo di vedere la March Madness se non utilizzando la VPN collegandosi dagli Stati Uniti e come giustamente vi diceva Franz facendo il trial free di Paramount Plus quindi insomma uno strumento che vi protegge che vi dà una garanzia di sicurezza di safety a 360 gradi e in più vi permette con questa cosa di poter vedere le fasi calde dell'NCA con i grandi prospetti o una buona parte di prospetti che probabilmente vedremo in NBA l'anno prossimo chissà quando quindi insomma l'occasione c'è fate voi noi vi consigliamo di agire agire adesso io se fossi negli Oklahoma City Thunder con una delle tante scelte che hanno Zack Eddy lo prenderei così mi serve rimbalzo lo prendo rimbalzi piglia c'è Tolmgren che può giocare da 4 a 5 insomma quindi Oklahoma City fatevi un favore prendete Zack Eddy allora è il momento di tornare alla strettissima attualità perché ti ho posto la questione di Vincenzo Eubanks perché poi cosa serve un lungo però prendo il più forte o quello che mi serve capiremo qualsiasi cosa si faccia si sbaglierà è natura della nostra forse banalmente poi alla fine non faremo niente un po' come è sempre accaduto ci accontenteremo però mi domandavo ma se Eric Gordon che aveva giocato con Team USA adesso può giocare con le Bahamas non è che Banchero può dire ascoltatemi avete trattato male io adesso voglio giocare per l'Italia no? no io penso lo possa anche fare non so se c'è un tempo che deve passare tra un esordio una scelta e l'altra secondo me Banchero spera ancora in cuor suo di poter andare a Parigi o comunque generalmente in Francia a giocare al Sì Olimpiadi con Team USA magari essendo rifiutato per la prossima volta potrebbe decidere di fare il salto della quaglia o del capretto dipende un po' come la volete chiamare e tornare da noi da mamma Italia torna con noi Paolo anche se non ci sei mai venuto però noi in Italia siamo dei volta gabbana di natura quindi oggi ti odiamo domani torniamo da Marti siamo pronti ad amarti esatto comunque nella notte prima di quando stiamo registrando Domanta Sabonis ha firmato il record di doppie e doppie consecutive stagione mi pare 54 se non sbaglio superando Kevin Love ai tempi di Minnesota e andrà avanti ancora in counting e se pensiamo che Domanta Sabonis non è stato all star in questa stagione flirta con una tripla doppia di media e sta giocando una stagione completamente pazzesca da un punto di vista di rendimento insomma non rischia veramente di passare un po' troppo in sordina una stagione di questo tipo solamente perché dal mio punto di vista Sabonis non è un giocatore spettacolare non è un giocatore che abbia appeal sul grande pubblico cioè siamo ancora a quel livello lì siamo a quel livello lì a maggior ragione poi se giochi a sacramento che più generalmente comunque è una squadra che non ha appeal sul grande pubblico c'è poco da dire perché anche di Aaron Fox è alla straconferma in questa stagione qua eppure lo si cita a malgrado lo scorso anno se non va di rata abbia vinto il neonato premio Clutch Player of the Year però insomma resta sempre un giocatore che passa come dire abbastanza dimenticato e i Kings in sé per sé probabilmente Malik Monk quest'anno dovrebbe essere il sesto uomo dell'anno se non glielo danno è un furto potrebbero non darglielo perché appunto al netto della classifica attuale che poi è molto ballerina in quella posizione ma Sacramento sarebbe playoff diretti però i Kings continuano ad essere una squadra con scarso appeal con poco riconoscimento e Savonis probabilmente gli sta gli va come dire dietro anche perché poi lui in sé per sé non è né un personaggio né un un propositore di un gioco particolarmente spettacolare però tremendamente efficace i suoi detrattori criticano i suoi rendimenti in post season o perlomeno l'hanno criticato lo scorso anno dove a onore del vero non stava neanche al 100% vedremo se raggiungono la post season secondo me sì se quest'anno saprà farli ricredere la stagione che sta facendo è devastante il fatto che non sia andato all'Star Game per quel poco che conta è vergognoso se l'anno prossimo l'Star Game sarà Stati Uniti contro il resto del mondo andrà sicuramente questo non abbiamo dubbi sì sì è vero tra l'altro al momento l'accoppiamento sarebbe Kings Timberwolves e per Minnesota è un accoppiamento complesso per i ritmi che impongono i Sacramento Kings per il tipo di squadra che sono i Sacramento Kings l'abbiamo detto più volte si giocherà molto sui matchup poi mancano boh dieci partite circa per squadra alla fine della stagione a ovest in particolar modo può ancora cambiare realmente tutto perché 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 c'è una squadra che sembrava poter competere per le alte sfere ma vedi hai pazienza e tutti i nodi vengono al pettine ora i Los Angeles Clippers tanto lodati prima dell'All-Star Game sono una delle peggiori squadre da dopo l'All-Star Game ad oggi vengono da due sconfitte consecutive abbastanza pesanti e nette contro squadre diciamo sì indiana questa notte ma voglio dire contro Milwaukee hanno preso una battosta incredibile hanno un record stra negativo contro le squadre con un record superiore al 50% e in questo momento sono quinti ad ovest ma dietro hanno a due partite Sacramento e Dallas quindi posizione play-in a due e mezzo nei Suns e perché no anche i Lakers a sto punto visto che sono a tre vittorie consecutive e ci credono questa notte giocheranno contro Milwaukee tra l'altro senza LeBron James quindi insomma da capire però domanda o comunque tema numero uno ci abbiamo veramente creduto in questi Clippers perché tu sai come io abbia accolto James Harden ai Los Angeles Clippers sottolineando quello che disse lo speaker dei Mavs cioè you're not the system you're the problem e si sta cioè è proprio paro paro quel che è successo a Brooklyn cioè è arrivato Arden ha fatto due mesi da MVP e poi pian pianino cioè non so si è si è tutto affievolito è calata è calato tutto e adesso è una squadra che boh è così gioca male una squadra brutta brutta una squadra brutta 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 e Tyron Lu ha detto we are soft decisamente incazzato giustamente mi verrebbe da dire però voglio dire fai qualcosa anche tu cioè mi pare che tu abbia dato le chiavi della squadra a questi quattro e questi quattro finché hanno funzionato tutto bene adesso non hai alternative non lo so Ty Lui non ha secondo me proprio la struttura né fisica né di apparenza per poter usare la frusta qui bisognerebbe usare la frusta non è credibile lui ad usare la frusta metaforicamente parlando ci mancherebbe altro senti io ti dico quello che si legge anche rispetto ad Arden è almeno io ho letto oggi un fastidio un problema un infortunio a una spalla che ne complica il rendimento per cui anche le sue percentuali e la sua capacità di tirare dall'arco appare compromessa o comunque appare limitata Kawhi Leonard sappiamo convive con problemi alla schiena la gara in cui è uscito per via degli spasmi Paul George in teoria non dovrebbe avere problemi però è un giocatore secondo me super interrogativo non si capisce mai se sta bene o sta male a me sembra uno sbuccione in tutta onestà perché ci sono momenti della partita in cui si accende ed è formidabile in attacco altri in cui perde dei palloni ridicoli che costano poi parziali che costano poi le partite come abbiamo visto anche nelle ultime recenti Westbrook è tornato adesso da una mano rotta insomma ci sono due chiavi di lettura la prima è quella che era il timore i Clippers non arrivano sani in fondo alla stagione hanno fatto due mesi a bomba dove sono stati la miglior squadra della Lega non ricordo se erano dicembre o gennaio ma credo di sì prima dello star game quindi forse gennaio o febbraio comunque hanno fatto due mesi in cui non ricordo esattamente quali dei due mesi dell'anno però avevano un record di tipo 25-6 una roba del genere in due mesi la miglior squadra della Lega per rendimento a partire da credo il mese in corso è completamente saltato il banco e questa è una squadra che in attacco non gioca che si limita a mettersi alle mani degli isolamenti delle loro star che non stanno bene evidentemente o che se stanno bene neanche sembra si stiano risparmiando evidentemente proprio hanno finito come dire le energie o forse non sono mai state amalgamate per come a un certo punto è apparso che fossero mettiamola in questa maniera perché io le ultime gare dei Clippers che ho visto è veramente una roba scollegata sconclusionata e sono uscite dalle sconfitte oggettivamente imbarazzanti tra l'altro spesso in casa come dicevi prima te che è una roba boh è vero che a Los Angeles nessuno ti fa i Clippers no e quando c'è Clippers Lakers sembra che i Lakers giochino in casa come diceva Lebron anzi JJ Reddick nel podcast Mind the Game però insomma un minimo di dignità anche perché poi si ritorna lì questa è una franchigia che l'anno prossimo andrà nella nuova arena nuovo riprending e adesso sembra una franchigia o meglio una squadra che se arriva al primo turno non lo passa o rischia come l'anno scorso e con gli ultimi anni di avviarlo con un roster e poi vedere di gara in gara qualche d'uno che salute il pubblico e va in vacanza anticipata perché si fa male sono molto fragili non lo so io non ti so dare una chiave di lettura reale o la sfiga o la completa discordanza delle quattro star che hanno le chiavi della squadra e che dovrebbero condurla che però mi torna come dire bizzarro visto che per due mesi ha funzionato in maniera cristallina perfetta e ideale io come si diceva anche l'ultima puntata credo che Harden sia centrale per quantomeno per la per la piacevolezza e l'efficienza del gioco offensivo perché comunque se già lui porta la palla il gioco si basa su su un pick and roll iniziale è già un qualcosa in più rispetto al gioco statico che si mette qua nelle mani degli isolamenti dei singoli o che poi magari chiede a quelli più freschi tipo men di risolvere quando gli altri sono immobili e fermi con un linguaggio del corpo abbastanza discutibile boh mi dispiace per i tifosi clippers che ci hanno creduto ci avevano creduto un po' tutti però in questo momento insomma le votazioni sono più che che ribasso sì 44-27 è il record però tra le squadre in questo momento da playoff ad ovest sono quella che nell'ultimo periodo è sicuramente in maggior difficoltà record alla mano ma non solo e tendenzialmente se arrivi in questo modo ad approcciare i playoff è difficile che poi ti scatti qualcosa alla prima alla prima serie è capitato molto raramente anche nella storia della Lega e quindi questo è cioè i clippers sono in caduta libera erano secondi addirittura con un record alla pari ti ricordi c'è stato un momento in cui Denver Clippers OKC e Minnesota avevano tutti lo stesso record dopodiché Denver è salita e adesso è ampiamente prima ampiamente no però è prima nella Western Conference i clippers di quella squadra di quell'otto di quattro squadre sono addirittura quinti superati anche dai Pelicans che invece non mollano un cazzo e i Pelicans sono in un ottimo momento nonostante l'infortunio di Brandon Ingram il che ci fa capire della comunque bontà e profondità di un roster che ha Herb Jones che ha Trey Murphy che sono non ti dico la fotocopia perché non lo sono ma a livello di specimen fisico sono molto simili a Ingram molto più difensori meno attaccanti magari anche se poi su singola partita abbiamo visto tra i Murphy può metterti dieci triple e sono lì sopra e sono lì sopra con un Ingram che deve essere rivalutato e a questo punto l'accoppiamento serve proprio Pelicans Clippers per uno come Zion Williamson e volevo arrivare lì cioè alla stagione di Bistecchone perché che probabilmente aveva bisogno di appiattire un po' le attese cioè aspettare di giocare una stagione ovviamente intera perché finora insomma ha giocato e di giocare una stagione in cui magari le aspettative su di lui non erano più così alte come all'inizio della sua carriera NBA Bistecchone e imparare a gestirsi perché secondo me Bistecchone gioco forza si sta gestendo molto di più da un punto di vista fisico cioè fa meno balzi gratuiti e quindi rischia meno di farsi male ma prima di dirti la mia sul Bistecca torno indietro sui Clippers perché ho trovato il dato perché è interessante cioè tra dicembre e gennaio hanno vinto 23 gare e ne hanno perse 5 dal 6 di febbraio 10 vinte e 12 perse credo sia aggiornata con la sconfitta di stanotte per noi che stiamo registrando quindi poi è vero che come dicevi il record dei Clippers resta comunque 43 vittorie o quanto è però nel senso più della metà arrivano sostanzialmente da un due mesi esatto ma poi due mesi a bomba e il resto insomma per mille ragioni zoppicanti claudicanti ci fu il periodo in cui arrivò Harden in cui ne persero 5-6 di fila non ricordo insomma non è una stagione con neanche un barlume di continuità e soprattutto per quanto siano in apparenza montagne russe la parabola discendente arriva in concomitanza con l'avvicinamento ai playoff e non fa ben sperare ma chiudiamo il capitolo Clippers perché poi anzi auguriamoci che parlandone male magari si riprendano almeno auguriamolo ai 4 all of famer che hanno al roster perché altrimenti se no è un altro fallimento e sarebbe l'ennesimo Bistecconi ragazzi adesso si parla di lui come dimagrito in grande forma lo è oggettivamente sicuramente gli infortuni lo hanno portato a perdere un po' di esplosività ma questo ripeto non è un male perché comunque può praticare un gioco meno balzi e meno fastidi di conseguenza e meno sollecitazioni visto comunque il peso anche osseo no come è che le ossa grosse esatto io le ossa grosse non sono grazie comunque l'impressione che proprio si è riuscito a trovare il modo di gestirsi perché i balzi i ragazzi li fa ancora abbiamo visto la schiacciata che ha fatto su Alleyup cioè ce l'ha è che un tempo era solo quello cioè in qualsiasi occasione saltava in quel modo lì sembra che si sappia gestire meglio pesa sicuramente meno e non ha introdotto nulla di diverso a livello tecnico rispetto a quello che faceva quindi rimane sempre un bulldozer uno che va al ferro non non si prende quasi mai un tiro dalla media non si prende mai una tripla quindi è un monodimensionale potremmo dire però quello che fa lo fa a livello elite poi ha una capacità incredibile cioè trova degli angoli per appoggiare la palla a canestro che sono allucinanti cioè a volte salta sembra che lanci la palla lì così a caso cazzo canestro sempre un grande miglioramento secondo me che sta facendo in progressione anche con l'andamento della stagione ma comunque era già visibile è sui passaggi e la visione di gioco cioè Zion nell'ultimo periodo viaggia oltre ai 6 assist di media e questo è un gran valore per l'attacco di New Orleans perché il tema è avrà perso oppure un po' di atletismo non ha perso di potenza anche se ha perso un po' di peso resta un bulldozer come decide è molto bravo e secondo me sta molto migliorando e lo sta facendo vedere quando carica il canestro saper trovare nell'eventualità che venga chiuso da tre persone e chiaramente attira le chiusure dell'avversario perché altrimenti va al ferro e dovrebbe essere uno dei giocatori con le media più alta di sempre realizzativa ad oggi nella restricte d'area una roba tipo 18 che passa punti di media non ricordo il dato l'ho letto l'altro giorno l'ho anche ricondiviso su twitter però insomma la capacità poi nel caso che venga chiuso da due o tre giocatori avversari di saper trovare anche con passaggi schiacciati e rapidi o l'avversario libero nel dunker spot o saperla dare fuori laddove poi i pelicans come dicevi giustamente te hanno anche giocatori capaci di colpire sul perimetro è una roba che vedo di più i dati dicono che ha aumentato gli assist si diceva anche nella puntata di lunedì insomma che point zion forse si diceva di non ricordo da qualche altra parte comunque che point zion funziona perché di fatto a lunghi tratti di partita è la point guard del creator della squadra e anche perché ripeto con quella potenza lì hai un vantaggio assoluto a mandarlo a dritto verso il canestro ed è una roba alla quale è difficile trovare risposta per le difese avversarie quindi potenzialmente un'arma segreta è importante se tutto intorno è ben supportato la squadra funziona e i pelicans stanno ben funzionando in questo periodo qua della stagione al netto dell'assenza di Ingram che io non sono un fan di Ingram e lo sono ancora di meno rispetto al potenziale fit con Williamson per adesso l'assenza di Brandon non sta portando ad un calo di rendimento poi dipende tanto anche da calendario però insomma i pelicans sono squadre in grandissima forma poi è anche una squadra a doppia faccia perché ricordiamoci quando ad esempio hanno affrontato i Lakers nella semifinale dell'inseason tournament o quel che era si sono sciolti come neve al sole Zion in primis quindi poi resta comunque una squadra che va sempre valutata nel momento in cui la gara è secca o comunque importante o nell'ipotesi serie playoff però gruppo profondo che si è in fiducia a mille soluzioni quindi non è l'avversario ideale per i Clippers in questo momento questo è fuori discussione però guarda io credo credo dai non gliela voglio tirare così brutta ai Clippers però temo che magari alla fine i Pelicans si mantengano quarti ma quindi arriva qualcun altro secondo me i Clippers scendono ancora perché o hanno uno scatto di orgoglio prossimo e immediato non so quando giocano se stanotte o domani ma lo vedremo no non stanotte oppure sono comunque per me sono psicologicamente e fisicamente crollati Pelicans no sembrerebbero in fiducia e vediamo quando ritorna Ingram se gli apporta un valore o gli complica la situazione perché forse Williamson senza Ingram è meglio che con Ingram forse anche se lo span di partite molto poco però ha preso in mano l'attacco insieme a McCullum che è cresciuto molto da quando si è fatto male a Ingram ultimo tema riguardante la Western Conference dobbiamo per forza parlarne perché davamo per scontato che le prime 10 rimanessero queste 10 in realtà ci sono degli Houston Rockets a 9 vittorie consecutive che hanno superato il 50% sono a mezza partita dai Golden State Warriors decimi sono lanciatissimi hanno tutto sommato un calendario almeno per le prossime due partite ancora credo abbiano di nuovo Utah hanno un paio di partite ancora semplici e poi c'è anche uno scontro diretto in mezzo tra Houston e Golden State che voglio vedermi e anche qui da quando si è fatto male Sangoon cazzo hanno trovato a parte Jock Landale che sta giocando sta mettendo delle statistiche incredibili è cresciuto Jalen Green abbiamo parlato un po' borderline parlando di Team Ignite nella puntata di lunedì e però qui secondo me la grande differenza è proprio a livello di head coaching cioè la stagione di Houston di quest'anno assomiglia secondo me abbastanza palesemente alla stagione di OKC dell'anno scorso cioè una stagione di preparazione e di crescita generale per avere una struttura e una propria come si dice mentalità una propria proprio modo di giocare una propria base di partenza per l'anno prossimo essere una squadra playoff perché l'abbiamo detto in mille salse che il talento giovane a livello di Houston Rockets c'è è presente è tangibile abbiamo detto che sono stati aggiunti dei giocatori esperti come Van Blit che hanno già vinto come Van Blit come Jeff Green Dylan Brooks se vuoi anche il banana coso che non gioca mai hanno cercato Michael Bridges ed è notizia qualche di questi giorni che avevano offerto ai Nets un pacchetto con Jalen Green più picks che è stato rifiutato però secondo me è proprio questa è la stagione da base di partenza per l'anno prossimo e Ament Thompson adesso sta giocando da numero 4 di fatto perché con l'infortunio di Sangunja Barry Smith è stato spostato da 5 c'è Ament Thompson da 4 che piglia una marea di rimbalzi e ti dà comunque quella creation aggiuntiva perché ha degli stinti incredibili in attacco hanno trovato un grande equilibrio e non solo stanno vincendo le partite ma le stanno proprio stravincendo in questo periodo ed è la squadra più in forma ad ovest ed è una squadra che si arriva lanciata raggiungendo i play-in eliminando Golden State che quindi sarebbe proprio fallimento fallimento incredibile la squadra che spende di più dell'intera dell'intera Lega Golden State ma poi occhio perché insomma scontro diretto ok che i Lakers per matchup anche gli cade bene sono sicuramente superiori ma arrivando così lanciati è tosta ma sì ma non ricordo una gara dove Lakers ha sofferto molto Houston una secondo me o forse due con Houston le han perse e neanche bene però su Jalen Green secondo me c'è da fare un super discorso anche in ottica prossima stagione di Houston perché l'esplosione offensiva poi parliamo della parte difensiva perché leggevo un articolo molto interessante di Jalen Green arriva in concomitanza la definitiva esplosione con l'assenza di Sangoon ora Sangoon ha fatto una stagione della Madonna e probabilmente era uno dei candidati per il MIP perché oggettivamente è cresciuto in una maniera assurda si parla di Baby Jokic proprio a livello anche di creazione di playmaking era più volte considerato il vero playmaker di Houston però senza di lui con un quintetto small dove talvolta è già Barry Smith a fare il 5 Amon Thompson ma soprattutto Jalen Green hanno iniziato a funzionare meglio probabilmente perché possono giocare ad un pace ancora più alto o forse perché sono in una condizione offensiva più dinamica e un giocatore atletico e talentuoso come Jalen Green in questo probabilmente sguazza ancora di più per questa ragione deduco stia viaggiando nel mese corrente a media assurde tipo 27 di media se non ho letto male o qualcosa di simile quindi però questa può essere anche una domanda che pone un interrogativo importante al front office di Houston perché o lì si trova il modo di farli giocare insieme che è la cosa preferibile Jalen Green o Sengun oppure vanno scoppiati perché se noi pensiamo al fatto che i Rockets in Deadline come ha detto Shams volevano prendersi Bridges dando via Jalen Green probabilmente avevano già dei dubbi sul fit tra i due un fit che magari per peculiarità hanno sono due giocatori che non si incontrano però il Jalen Green che stiamo vedendo in questo momento merita di essere il più possibile lavorato per poter stare con il Sengun che abbiamo visto fino all'infortunio cioè uno dei migliori centri della Lega oggettivamente oltretutto giovane e quindi ancora con un ceiling bello alto e quindi da potersi da poter sviluppare il tema di Jalen Green però è un altro nell'altra metà campo perché io leggevo questo articolo su quanto difensivamente Jalen Green sia cresciuto rispetto ai suoi primi anni e quanto lo stia dimostrando in questa stagione generalmente e soprattutto in questa fase momentanea dove è al top del top in questo articolo raccontava che con il buon Silas dove la difesa non era ben considerata faccia all'anima sua faccia all'anima sua tra l'altro beh Jalen Green si poteva permettere di concentrarsi maggiormente come si criticava anche noi a rubarsi i possessi con Kevin Porter Jr che fortunatamente è scomparso dai radar e quindi più alla metà campo offensiva tanto si giocava per perdere con l'arrivo di Udoca e si sapeva che avrebbe improntato comunque una sua una sua direzione difensiva e soprattutto con gli esempi che il mercato estivo ha portato a Houston quindi un difensore come Dillon Brooks e un difensore come Fred Van Vliet in questo articolo si raccontava come Jalen Green si sia maggiormente concentrato anche sul rendersi funzionale in quella metà campo per due ragioni credo se non ricordo mai l'articolo lo riportava anche Udoca come virgolettato la prima è che quando poi vanno a fare le sedute in sala video l'evidenziazione se si dice di ogni suo errore difensivo lo mette oggettivamente in imbarazzo e poi perché comunque difensori buoni come Dillon Brooks e Fred Van Vliet più o meno nella sua posizione nel suo ruolo gli rappresentano anche un esempio che poi dal quale può apprendere un qualcosa e poi mettere in pratica fatto sta che se noi guardiamo le partite di Rockets nell'ultimo periodo Thompson uno dei gemelli si sapeva che è un talento naturale in difesa ma il rendimento difensivo di Jalen Green quando è in campo è altrettanto positivo pari a quello di Thompson perché oggettivamente è un difensore che sul single coverage è in grado di tenere più o meno chiunque con i pari ruolo è sempre a vantaggio perché è strutturalmente grosso e alto mediamente si trova magari a marcare una point guard o comunque una guardia più piccola di lui e sia in scivolamento che per attività sulla palla è molto molto attivo e ha una gran tenuta inoltre è ottimo perché con quella struttura fisica lì in un'ottica di cambiare magari su gli screen di iniziazione da parte degli avversari serenamente e lo mettono in pratica più o meno sempre lui cambia su tutti lo stesso fa Thompson e quindi la difesa di Houston ne guadagna lui personalmente è cresciuto tanto e in questo articolo e poi chiudo si diceva che siccome inizio stagione di Jalen Green è stato da un punto di vista offensivo abbastanza discontinuo per mantenersi con Udoca in rotazione perché Udoca è il classico allenatore che se te cappelli la difesa una, due, tre, quattro volte ti mette in panchina subito lui si è concentrato a maggior ragione ancora di più nella metà campo difensiva per mantenere dei minuti e poi sperare di poter entrare in un momento di fiducia offensiva e rendere quanto sta rendendo adesso il momento è arrivato adesso stiamo vedendo il talento nel suo massimo splendore ad oggi di fatto se lo parametriamo se lo calcoliamo nell'ultime settimane questo è un all-star fatto e finito in ambo le metà campo quindi Houston fa bene a tenerselo bisogna come dicevo prima che il fit con Sangoon se davvero alla base di questa esplosione di green c'è l'assenza di Sangoon perché i due giochi non coincidono perfettamente bisogna che li facciano giocare insieme in qualche modo e comunque il coach è buono e come hai detto bene te nel senso questo è il primo capitolo di un lavoro che lui ha programmato e probabilmente ha già scritto e Houston è una squadra che è piena di talento non ha la sua scelta se non vado errato per il prossimo draft perché dovrebbe andare a Brooklyn però ha comunque non lo so ha comunque una scelta che potenzialmente no ha una scelta di Brooklyn credo che sarà potenzialmente dalla Trey Garden credo l'ultimo esatto mentre la loro scelta in realtà è stata impegnata altrove però insomma ecco non è nelle condizioni per cui gli conviene tankare anzi probabilmente non gliene frega nulla e non a caso infatti sta facendo questa rincorsa al decimo posto quindi io fossi un tifoso dei Rockets sarei strafelice e abbastanza sereno per il futuro la squadra è bella bella interessante e questa esplosione di Jalen Green è alla base di questa rincorsa che i Warriors rischiano veramente di trovarsi bruciati perché perché siamo lì è un po' come Clippers e Pelicans però qui la situazione è più pericolosa cioè Houston è in ascesa clamorosa ripeto se non l'ho già detto non ricordo calendario favorevole per i Rockets comunque hanno vinto tutte le gare con squadre mediocre ci mancherebbe altro però di fatto sarebbero mediocre anche loro esatto è quella la grossa la grossa cioè che loro in questo momento stanno vincendo stravincendo tutte le partite in questo momento contro chiunque di fatto però voglio dire sono gli Houston Rockets cioè non sono una squadra non sono i Boston Celtics e adesso ci arriveremo anche su Boston perché era l'ultimo argomento dell'Ovest e vorrei passare verso l'Est perché parliamo sempre molto spesso della Western anche perché giustamente è molto più combattuta con molto più talento e soprattutto perché ripeto Golden State è la squadra che spende di più ha speso sta spendendo di più nella storia di questa lega arrivare fuori dai playoff sarebbe veramente tragico tragico poi a tutte le sue pick magari gli va di culo si piglia una top 3 top 4 posto che il draft prossimo non dovrebbe essere un granché e magari si convince che forse è meglio sfasciare adesso nel senso lascio andare Clay trovo un posto per Draymond mi tengo Steph e vedo cosa arriva in cambio non lo so perché capisco settimi ottavi ma fuori dai play-in insomma discreta discreta fine a tutto il discorso secondo me poi magari l'anno prossimo vinceranno il titolo io ho paurissima e poi non parliamo di tanto che il rinnovo biennale di Steve Kerr apre le porte a una riconferma per i prossimi due anni del terzetto Draymond Clay e Steph quindi visto che le cose comunque vadano andranno bene in questa stagione qua va via CP3 e probabilmente questi si trovano costretti per continuare a rincorrere una competitività ormai perduta a impegnare anche i pochi talenti giovani che hanno pochi insomma pochi relativamente quindi magari c'è il rischio di vedere Pozmielski e Kuming in una trade insieme a Wiggins per portarsi dentro un borderline all star che poi tutto sommato non cambia le sorti magari un ritorno di Kevin Durant perché anche lì esatto non abbiamo parlato però cazzo una sconfitta contro San Antonio così cioè poi vai a vedere Clippers e Suns ci sono sempre questi giocatori incompiuti Bradley Bill io ci metto anche KD perché comunque la storia di KD è di uno dei migliori di sempre che è andato nella squadra più forte di sempre c'è quel tipo di narrativa lì che però voglio dire non possiamo chiudere gli occhi è andata così dall'altra parte Arden Westbrook Paul George tutti questi grandi super mega campioni superstari incredibili ma sempre poi incompiuti cioè che quando c'è veramente la partita da vincere il momento in cui devi confermare di essere al top cazzo succede sempre qualcosa Booker sta entrando in quel tipo di di discorso lì e mi dispiace molto perché su Booker nutro grandi grandi speranze andiamo ad est perché se no non abbiamo più tempo perché bisogna parlare assolutamente del passo falso dei Boston Celtics qua a differenza dei Clippers dico ci sta un calo di come si dice un calo di concentrazione ci sta un momento in cui pensi di averla già vinta e ti piglia un'imbarcata Boston mi dà l'impressione di essere una squadra che da questa roba qua può solo che imparare ma dall'altro canto ci conferma un po' quello che dicevano in Mind the Game Reddick e Lebron sul Tatum giocatore perché siamo sempre lì cioè è una partita avevano vinto le ultime 9 insomma quindi hanno perso solo questa nell'ultime 10 9-1 non è assolutamente successo niente chiaro che essere rimontati dal più 30 dagli Atlanta da questi Atlanta Hawks senza Jalen Johnson senza Trae Young voglio dire ti deve un attimino far svegliare e dire questa roba qua non può più succedere è un piccolo campanellino ma che secondo me per come sono impostati i Celtics gli fa bene perché stavano veramente vincendo troppo facilmente tutte le partite no è vero è vero il problema è che è un bis perché rispetto all'ultimo periodo in cui i Celtics nelle ultime 20 gare prima di questa in una squadra schiaccia sassi perché perché era successa una sconfitta analoga contro i Lakers in casa Lakers senza Lebrone e senza Anthony Davis con Mazzulla che va in conferenza stampa incazzato e da lì c'era stata questa virata e la squadra oggettivamente aveva ben risposto pur avendo verso due gare in quel frangente di una contro Denver e una contro Cleveland che lasciavano un po' qualche dubbio soprattutto con Denver per questioni entrambe in volata e c'è questo tema qua importante ora la gara contro Atalanta è evidente nel senso loro su più 30 hanno smesso di giocare proprio come dire abbiamo finito andiamo col piloto automatico e ci riposiamo Atalanta invece è entrata in partita e l'Atalanta Hawks di fine terzo quarto inizio quarto periodo era una squadra completamente diversa rispetto a quella del primo è entrata in fiducia Decento Emery ha fatto una partita della madonna ed è un giocatore quando entra in quel modo lì in fiducia sia in attacco che in difesa incredibile però io ho visto Poston perdere delle palle assurde due tre palle sulle rimesse allucinanti anche la stessa palla persa di Porzingis fine terzo quarto mi pare che poi Decento Emery la ruba e poi segna la tre all'altra parte vergognose i Celtics sono usciti dal campo scandano scommesse diceva guarda nel senso ora non è è possibile non è nella loro cultura però insomma succedeva in seriati calcio una partita del genere e incominciava a farti delle domande probabilmente però insomma ripeto dopo la pessima sconfitta con i Rakers questa succede a distanza di due mesi non so quanto ne è passata però magari può dare una scossa ulteriore si resta lì questa è una squadra che comunque nel finale in volata dimostra dei limiti io non so se la gara con Atalanta è da prendere come modello di riferimento in questo perché ripeto avevano spento l'interruttore troppo presto e quando hanno provato a riaccenderlo si sono resi conto che gli altri viaggiavano al triplo e loro non riuscivano a stargli più dietro e comunque l'hanno persa all'ultimo tiro voglio dire però insomma Masulla giustamente si è incazzato e si farà sentire restano nettamente la squadra più più forte della Easter Conference secondo me quindi possono suicidarsi solo loro a livello di postseason però si suicidano come hanno fatto l'Atalanta esatto no tra l'altro sono in questo momento hanno un record di 32-23 perse in casa quindi diciamo tra le Muramiche hanno perso con i Lakers la famosa partita di cui abbiamo discusso in casa e poi non ricordo contro chi abbiano perso in casa con Denver con Denver con Denver alla prima tra dei due scontri esatto Denver la prima ancora non lo ricordo con chi forse i Magic forse i Magic forse i Magic mi pare ne persero due in casa quasi consecutivamente cioè la seconda era con Denver la precedente l'avevano persa con qualcun'altra che non ricordo in ogni caso voglio dire in casa sono decisamente la squadra più forte della Lega e vabbè avranno il fattore campo dall'inizio della fine del playoff quindi devi comunque batterli lì per provare a vincere su di loro scendendo abbiamo dei New York Knicks che stanno riprovando a riagganciare il terzo posto nonostante siano ancora senza Nunobi Randall e Mitchell Robinson e c'è sto Tibodo che continua col suo mantra di far giocare i giocatori 48 minuti a partita perché c'è Miles McBride adesso che veniva da due partite consecutive da 48 minuti e nell'ultima è uscito 5 minuti per poi rientrare ma un giocatore che hanno esteso in estate tra l'altro e che viene fuori dal nulla è basso con Branson è un backcourt bassissimo c'è Josh Hart che è il numero 3 che è basso per il ruolo ma che piglia un botto di rimbalzi e poi chi c'è voglio dire Artenstein cioè capisci è una squadra che non dovrebbe poter non dovrebbe esserli non dovrebbe aver vinto 7 delle ultime 10 non dovrebbe e questo è clamoroso cioè è veramente Knicks basketball cioè quello che storicamente ha sempre condotto i Knicks verso non dico il successo perché ce ne sono stati molto pochi ma verso l'innamoramento del proprio pubblico ecco quello sì e non vedo l'ora di vedere il Garden il playoff anche perché al momento l'accoppiamento sarebbe Knicks Magic che sono due squadre comunque di impronta nettamente difensiva che ci porterebbe a una serie probabilmente vecchissimo stampo una serie du faire esatto esatto tra l'altro ci sarebbe anche da dire che c'è un abbassamento delle medie realizzative posto Stargame posto Stargame anche se leggevo anche lì un articolo interessante dove si parlava che probabilmente alla base di questo c'è un metro arbitrale differente quindi quasi sia stato dato un consiglio caldo agli arbitri di lasciare un po' più correre meno tiri liberi e soprattutto leggevo quasi propedeutico per il domani chissà meno tecnici o comunque falli per i tre secondi difensivi non so quanto sia è un articolo non lo verifico non lo so perché non ci chiappo niente in queste robe e sui X è squadra assurda è una squadra con garra ma non potrebbe essere altrimenti quando ti guida Jalen Branson ma soprattutto hanno azzeccato questa roba della Villanova con Nexion perché comunque sono questi tre giocatori tutti sostanzialmente sottodimensionati per i ruoli che vengono impiegati ma è pazzesco cioè giocano con McBride Branson Di Vincenzo Art e poi Artenstein Art e Artenstein esatto il cuore di X a Shiba a Shiba vedi è un altro che secondo me poteva essere cioè è un giocatore potenzialmente funzionale per un sistema simile sta funzionicchiando ma poi sono tutti comunque non tutti però sono comunque rincalzi rispetto alla cosa più importante cioè che tre quinti del quintetto base non ci sono in questo momento qua è assurdo ed è la parte più muscolare della squadra perché è Anunobi Randall e Mitch Robinson che non hanno mai neanche giocato tutte e tre insieme per adesso in Maglian X perché Mitch Robinson manca dalla notte dei tempi purtroppo per loro ma tutto sommato un contraccolpo non l'hanno evidentemente sentito più di tanto anche perché Artenstein sta facendo una stagione della Madonna diciamo lo sottolineiamo però anche queste affinità elettive che ci sono tra i tre ex compagni di college appunto tra Branson di Vincenzo e Art è una cosa che si vede e che il rendimento di Art e soprattutto di Vincenzo è impressionante c'è Dante di Vincenzo c'è delle partite con 40 punti 30 punti ha fatto i record di triple nella storia dei Knicks in una singola gara è un giocatore impressionante per ritornare al discorso prendiamolo in nazionale svegliamoci lo dice anche leggiamo i post della giornata tipo leggevo oggi lo dicevano loro lo consigliavano anche loro insomma se almeno voglio dire seguiamoli quando dicono una cosa giusta se non credete a noi credete almeno a loro credete a loro loro sicuramente sono più lasciamo perdere comunque e comunque guarda la serie con i Magic i Magic sono la sorpresa dell'anno ma sono la stessa squadra che esce al primo turno con chi gli tocca gli tocca quindi per i Knicks secondo me sarebbe non una passeggiata ma siamo lì anche se qua hai detto bene adesso due squadre comunque dalla grande impronta difensiva poi l'attacco ragazzi dei Magic è di una staticità imbarazzante cioè è veramente anche brutto da vedersi e i Knicks saprebbero limitare bene avrebbero i corpi in potenza per limitare Paolo Banchero se recuperano almeno Anunobi ma credo insomma che per la postseason siano Anunobi che Randall saranno recuperati ma credo anche Mitchell Robinson anche se si parla di un rientro di Mitchell Robinson oramai da settimane però ancora non l'ho rivisto non so se è schedulato se se ne sa qualcosa o meno allora so i Knicks ti ricordi che avevano fatto la richiesta per la Disabled Player Inception non gli è stata data perché dagli esami fatti non era un season ending quindi sarebbe potuto rientrare il che ci fa pensare che per i playoff possa rientrare poi se uno salta tutta la stagione rientra per i playoff non credo che possa giocare più di 10 minuti forzando ma insomma è pur sempre un rimbalzista uno che ti può fare 10 minuti fatti bene al posto di Hartenstein in questo caso più che altro ragionavo sul fatto che ora come ora se tutto va come deve andare al primo turno dei playoff abbiamo nuovamente Miami Milwaukee che è la serie fissa degli ultimi dalla bolla in poi presumo io non vorrei tornare sul discorso di Miami perché li abbiamo infamati già nella puntata di lunedì però hanno bisogno di abbassare la cresta non c'è un cazzo da fare hanno rotto le palle vuoi continuare a infamare Jimmy Butler era uno sbruffone uno sbruffone di prima categoria no no basta 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 Jimmy Buckets l'amante del caffè i grandi Heat la Heat Culture i pescatori di talenti nascosti ma dai io credo su Miami Heat ho letto che comunque sono una squadra più forte dell'anno scorso che comunque si dà tanto credito a Rosier io in tutta onestà a me Rosier se posso permettere mi fa cagare come come giocatore mi ha sempre fatto cagare e non credo che sia la grande risposta per Miami poter trovare ma vi ricordate che playoff ha giocato culone lauri l'anno scorso c'era sempre recuperava una maria di palloni prendeva sfondamenti da chiunque cioè sottovalutatissimo culone lauri e che cazzo ma si bistrattato tra l'altro bistrattato nella sua apparizione fugace a Miami in teoria a fine carriera dove ha dato di tutto di più anche alle finals l'anno scorso si è ritrovato alle finals non aveva neanche programmato nella sua vita di ritornarci più dopo aver vinto il titolo con Toronto invece si è ritrovato e ha dato pure più di quello che si poteva perché tanto la squadra non aveva un cazzo a dare quindi che doveva fare non lo so io però ho paulissima perché secondo me questi vincono con i Bucks perché se lo vincono in primo turno con i Bucks poi rientrano in fiducia magari ritrovano in X cioè ragazzi nel rivedere i Miami Heat alle finali di conference contro Masulla potrebbe essere un dramma di avere gli Heat alle finali poi comunque anche se torno alle finali di conference perché poi si dovrebbe dire ma questa è la quarta finale di conference in cinque anni e sarebbe vero sarebbe vero e si ho capito sarebbe che è vero però alla fine voglio dire quando quando si vince cioè ho capito la heat culture ma porca puttana cioè ho capito e quando si vince con i Miami Heat quando si vince si vince quando anziché di essere intanto sta dietro la heat culture alla formazione al il peso le percentuali di massa grassa si portano dentro le superstar ecco quando si è vinto a Miami si è vinto a Miami quando si è portato dentro Shaquille O'Neal one shot perché poi poteva dare tanto di più si è vinto quando si è fatto questa mossa dove si è portato dentro Bosch e Lebron grazie al cazzo avrei vinto anch'io con il Montemarchi capito con la squadra si è portato dentro Lebron e Bosch quindi c'è anche la faccenda della heat culture diciamola tutta heat culture sì certo bellissima però poi alla fine della fiera quando è che ha vinto Miami ha vinto quando si è portato dentro quando gli è riuscito e ha potuto vincere facile portandosi dentro le superstar ora però basta perché noi siamo diventati gli hater del Miami Heat più che della nazionale italiana e adesso qualsiasi risultato faranno gli hit dal momento che c'è sta puntata alla fine della stagione ci verrà rinfacciato e temo che faranno anche una run lunga come al solito esatto per rendere brutta la run playoff perché se gli hit vanno avanti è brutta stai peggiorando le cose esatto si scherza ragazzi ve l'ho detto io ho la felpa dei Miami c'è anche dei pantaloncini dei Miami c'è degli amici dei Miami eh ragazzi un tale un tale piase in tini grande piase ti vogliamo bene tu hai la heat culture grandissima no a parte tutto noi noi si scherza però effettivamente c'è cazzo ma sempre così c'è un po' e che poi passa completamente in sordina il fatto che nel 2021 siamo stati sweepati da Milwaukee con Butler da 29% per tutta la serie però quella roba lì è passata via andata via come ci si dimentica che nel 2022 erano arrivati i primi in regular season per record e non sono mica arrivati alle finals però eh quindi oh che vi devo dire si guarda sempre dove dove Butler vuole che si guardi eh in sostanza no sempre nascondendo la polvere che c'è abbondante sotto il tappeto eh adesso dobbiamo anche capire quando e se rientrerà Embiid perché Philadelphia da numero 8 con Embiid potrebbe dare un minimo di fastidio quantomeno poi non vedo come possano battere i Boston Celtics ma se adesso ormai c'è passato un po' di testa o di memoria ma che stagione stava facendo Embiid cazzarola ora dovrebbe rientrare anche lui è un po' alla Mitchell Robinson cioè cosa si fa rientra non rientra aspettiamo i playoff boh Philadelphia è ottava però quindi ora diciamo che dalla 1 alla 8 a est sono quelle non credo che possa succedere grandi cose l'unica è che i Miami Magari non facciano un ultimo colpo di coda magari superando o i Magic o gli Indiana Pacers che sono le due squadre lì da un po' più davanti Cleveland sta calando un pochettino complice anche l'infortunio a Mitchell però è sempre quella squadra che ha quell'assetto lì e da lì non ti schiodi l'impressione è quella cioè i due piccoli due lunghi e basta Boston Milwaukee doveva essere Boston Milwaukee molto probabilmente sarà a meno che Miami è sempre quella alla sorpresina no sarebbe sarebbe un dramma per Giannis per i Bucks per il futuro della franchigia nel senso io l'ho detto mille volte mi sa l'ho detto pure quasi i Bucks non raggiungono le conference finals o comunque le finals secondo me salta veramente il banco l'anno prossimo cioè mi fa la sensazione che ha detto un po' sia non voglio dire all'ultima all'ultima danza però che non passerebbe oltre a un fallimento non fallimento ennesimo e poi dovrebbe giustificare in conferenza stampa dopo tutte le critiche che ha ricevuto figurarsi mi dispiace perché sarebbe stato molto bello non per i tifosi Bucks se fossero arrivati i secondi Cavaliers perché allora credo che per gli abbinamenti non sarebbe stato possibile vedere la finale di conference tra Celtics e Bucks se sarebbero dovuti incontrare dopo e questo sarebbe stato ancora più interessante perché poi magari arrivava alle finali di conference una sinderella all'altra parte che magari fa la sorpresa o comunque rende la situazione meno prevedibile più frizzante di fatto è vero Heat e Bucks si incontrano da anni però contemporaneamente è vero che allo stesso livello da anni si attende ai playoff almeno 2-3 anni la sfida tra Bucks e Celtics quindi la riavremo in un modo o nell'altro anche in questa stagione direi sarà comunque una sfida un matchup interessante da vedere io ho visto una gara recente di Milwaukee contro i Thunder e il primo quarto dei Thunder anzi metà di primo quarto dei Thunder devastanti io ho detto minchia cioè Milwaukee proprio non ci mette le mani poi invece i Bucks si sono accesi clamorosamente però ecco i Thunder venivano da una serie di trasferte molto pesanti a livello di viaggi e trasferimenti erano partiti a bomba detto questo per quanto poi non abbia fatto se non ricordo male neanche una partita pessima a Middleton però è veramente cioè mi dispiace ridirlo tutte le volte perché sembra uno goda nel dirlo però è veramente la controfigura del giocatore questo secondo me in prospettiva per gli off i Bucks lo pagano in tutti i modi perché Middleton veramente non riesce a stare secondo me in campo continuativamente dando un contributo in ambole metà campo per più di tot minuti dopo un po' lo devi mettere a riposo questo è il principale problema di Milwaukee perché perché serve perché serve un facilitatore anzi dovrebbe essere il facilitatore offensivo soprattutto tra Giannis e Lillard però è anche vero che Lillard e Giannis sono due attaccanti della Madonna con peculiarità diverse e comunque possono vincerti una serie alternando sia ci mancherebbe altro quindi resteranno cioè saranno dei playoff interessanti a Est però temo hit permettendo che che l'epilogo insomma la finale di conference sia scontata si potrebbe già iniziare a fare la preview adesso secondo me e i Celtics per me sono favoriti anneto degli inciampi recenti e di Masulla almeno che ah sì poi c'è Doc Rivers a Milwaukee non ti pare fatta perde il primo tour easy va bene allora con la panoramica anche sulla Easterna abbiamo chiuso questa puntata infrasettimanale direi che insomma abbiamo dato abbiamo dato adesso Pasqua Pasquetta vedremo insomma non aspettatevi che non aspettateci anzi poi nel caso in cui doveste trovarci tutto di guadagnato chi lo sa chi lo sa riusciamo dall'uovo di Pasqua come una splendida sorpresa come un splendido portachiavi esatto il portachiavi degli stronzi perché se facciamo un'altra puntata come oggi abbiamo fesso tutti qualcuno ci mette le mani addosso e così abbiamo portato a compimento anche la 46 io non ricordo quante puntate ci siano state l'anno scorso nella stagione dell'anno scorso del podcast ma quel che ti posso dire è che questa di oggi è la numero 89 totale quindi se qua ce ne sono 46 ne avevamo fatte 43 l'anno scorso quindi abbiamo già eguagliato il numero di puntate andiamo verso i 50 e poi ci vorrà un po' di load management o no andiamo ad andare verso la puntata 100 e poi chiamare il nostro ospite il nostro asso nella manica che noi ce ne abbiamo uno bello però se stiamo tenendo come fanno tutti la puntata 100 si porta ragazzi cazzo portiamo c'è qualcuno che vuole offrirsi ragazzi non abbiamo più palli da idea tipo non c'è ma noi ce ne frega realmente ma ci importa una sega come si dice quale la puntata 100 101 signori noi per la puntata 100 avremo il signor nord vpn qui con noi oh finalmente il cavaliere nord vpn il commendatore nord vpn oppure verrà Gianbruno insomma sarà la volta buona dobbiamo provare dobbiamo provare dobbiamo provare va bene signori puntata 46 in cascina usate i commenti su youtube mi raccomando mettete un like lasciate una recensione su spotify fateci un po' di pubblicità perché insomma noi ci mettiamo il cuore e l'anima in questo podcast e non sapete nemmeno quanto non potete nemmeno immaginarlo quindi il minimo è darci una recensione positiva non solo su spotify non solo su youtube anche su tripadvisor se volete 3 and drink podcast su tripadvisor dobbiamo creare il profilo e vedere che cazzo succede hashtag noi con voi voi con noi come era tipo il tema è quello anche se poi un hashtag già lanciato reprise e poi magari non li usate neanche però insomma il tema è quello poi c'è anche il link appunto per abbonarvi a NordVPN per le mille ragioni già dette non dimenticatevelo amici miei per il resto è dirvi buona Pasqua buona Pasqua a tutti è il momento degli auguri non vi augurerò una Pasqua di merda perché sarebbe una blasfemia e noi chiaramente siamo nel rispetto di tutte le culture un veneto un toscano assolutamente no e quindi una felice e serena Pasqua una splendida Pasquetta e poi via verso la primavera verso le feste laiche il 25 aprile il primo maggio 2 giugno la festa della Repubblica e poi si va in festa le finals le finals il draft perché poi c'è il draft e poi dopo il draft uno dice ah è finita la Summer League la Summer League che ti dimentichi che è la Summer League e poi la nazionale preolimpia non c'è pausa non c'è pausa va bene signori grazie mille per la compagnia e noi ci vediamo boh non so se lunedì o più avanti pace e bene ciao alle raga grazie mille